Una delle domande che mi viene posta più frequentemente è quella relativa a come impostare il proprio studio. Allora se segui i corsi del laboratorio musicale Varini e segui così come li ho impostati i corsi non dovresti avere problemi. Tu potresti chiedermi però ma in base al tempo che ho come devo distribuire il tempo tra ad esempio il corso di strumento, il corso sul suono, il corso della teoria e quando devo ritenermi soddisfatto di aver raggiunto un buon risultato su una lezione per andare avanti. Io non ho in mano la risposta assoluta perché ci sono delle sensazioni che sono anche individuali, personali dello studente ma sicuramente posso darti invece una risposta su come procedere in modo corretto, in modo dinamico e ci deve essere anche un po' di divertimento. Ok? Allora ipotizziamo che tu approcci l'esercizio, dico un numero a caso, siamo al 3. Ok? Al 3, 1. Sai che tutta la mia didattica è prevalentemente impostata in questo modo, una unit didattica che è previsto che duri in uno specifico arco di tempo, tipo in una settimana possa essere seguita orientativamente e sotto ci sono le lezioni che sono divisi come degli argomenti e quindi se la unit, quello che ti ho appena detto, è la 3, noi potremmo essere alle lezioni 0, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 2, eccetera. Ok? 0, 3, 0, 1, ad esempio un esercizio di tecnica. C'è un po' di difficoltà iniziale nell'eseguirlo e questa difficoltà proseguirà. Non può essere risolta in una settimana. Anche se il programma nella mia testa e nel mio planning è sviluppato per farti seguire quella unit didattica in una settimana, non significa che dopo una settimana tu sarai in grado di fare tutto ciò che c'è dentro quella unit didattica. No, significa che tu avrai acquisito ciò che c'è dentro a quella unità didattica, ma probabilmente non sarai ancora in grado di eseguirla alla velocità e con i risultati che ci serve, che tu raggiunga, che ti serve, che tu raggiunga. Quindi come si fa? Ok, segui la 3, 0, 3, 0, 1, esercizio di tecnica. Faccio un esempio. 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, vedi che il 4 va giù un pochino male, li fai col metronomo ma non riesci a seguire ancora bene il metronomo. Non significa che tu devi stare lì su quella lezione finché non viene bene, perché altrimenti se tu avessi il numero di telefono mi chiameresti e diresti basta, non ce la faccio più, questo esercizio non mi viene, questa lezione non mi viene, voglio smettere di suonare. No, 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 non lo fare. Per questo io ci tengo a dare questa spiegazione. Cosa devi fare? devi provare, annusare il profumo di questa lezione e capire che è difficile. Certo, acquisisci i movimenti fondamentali. Potrebbe essere che tu inizi a riuscire a muovere le dita. Ti faccio un esempio, la prendo, ce l'ho qua, la chitarra. Può essere che tu inizi, ok, a muovere, siamo qui, ma lo faccio qui perché è più vicino. 1, 2, 3, 4, ma non riesci a fare la pennata alternata. Non ci interessa per adesso. L'importante è che tu riesca un po' a muoverle, ok? Non è anche questa velocità. Però non devi fermarti qui finché non hai ottimizzato e raggiunto una buona velocità, consapevolezza. No, vai avanti alla lezione dopo e imbastisci anche il concetto di quella lezione. Cerca di acquisire la padronanza dei concetti che ci sono dentro quella lezione. È impensabile pensare di vedere una lezione, provarla e portarla all'ottimizzazione. Tu devi pensare più a una formazione lunga quasi tutto il corso che è seriale e parallela. Cosa significa? Oggi guardiamo la 0301, ma se hai un'ora di tempo, magari, io ti auguro di avere un'ora di tempo di studio, non devi dedicare un'ora solo a quella porzione della 0301. Dedicale 10 minuti, un quarto d'ora e poi passi alla 03 e 02 e gli dedichi 10 minuti, un quarto d'ora. Visto che magari dopo ti fanno male i polpastrelli, potrebbe essere, o ti sei un po' stancato o stancata di pennare, la concentrazione potrebbe scendere da questo punto di vista. Allora molla un attimo il corso della parte pratica del strumento e vai sul corso di teoria. In realtà la cosa migliore sarebbe iniziare dal corso di teoria, perché come inizi a essere stanco la teoria non ti va di farla. Vai nel corso di teoria e ripassa gli argomenti, ma come li stai ripassando? Nello stesso modo. Guardi la unit 0301 e poi la 0302. Ripeto, sarebbe meglio iniziare dalla teoria proprio perché è quella che più volentieri potresti saltare. E come nelle diete, ti consigliano di mangiare prima l'insalata, così sei pieno di insalata e magari dopo ti accontenti di meno pasta. Ecco, se invece ti riempi la pancia di pasta, che è più gustosa, soprattutto se sei da queste zone anche emiliane, ma in tutta Italia si mangia bene, ecco, quando ti sei riempito o riempita la pancia, dopo l'insalata non la mangi più. Ok, allo stesso modo non riempiamoci la pancia solo di strumento, iniziamo magari con la teoria, però è a tuo buon gusto e buon cuore, puoi anche un giorno fare in un modo, un giorno nell'altro, un giorno teoria, un giorno strumento. Quando sei, se fai un lavoro che ti fa essere in viaggio, puoi studiare soltanto teoria se non hai con te la chitarra. Bene, comunque anche nella teoria è la stessa roba, guardo la 0301, l'annuso, capisco, vado avanti, 0302, 0303, e poi se mi rimane qualcosa guardo, non so, il corso sui suoni, il corso su home recording, il corso su Pro Tools, base, un'altra cosa che faccia parte della musica, resto nell'ambito didattico che riguarda la musica e la chitarra. Ma domani che cosa farò? E niente, arriverò ripartendo dalla 0301, la porterò a un livello un pelo superiore. Meglio ancora, inizio dalla teoria, le do un'occhiata, riguardo gli esercizi di oggi e porto ognuno di questi esercizi a un livello un po' più alto. Quando vedo che sono un livello un po' più alto, aggiungo quello sotto, quindi è seriale la formazione perché ogni esercizio lo porto serialmente a essere sempre eseguito meglio. In modo parallelo metto delle altre lezioni che mi porto avanti, ciascuna, diciamo come se fossero delle RAW, ogni linea che io vado a creare è parallela alle altre ma è seriale rispetto alle stesse. Quindi che cosa succede? Meglio ancora se ho qualcosa da vedere della unit 1 e della unit 2. Mi scaldo, cioè soprattutto dal punto di vista meccanico sulla chitarra, prima di fare delle cose un po' scomode, è bene un po' scaldarsi. Adesso io ti ho fatto l'esempio dell'esercizio 1, 2, 3, 4 che è quello proprio che serve per scaldarsi. Ma quando dovessi fare degli esercizi più difficili, comunque inizia dall'1, 2, 3, 4. Fai sì, scalda non soltanto l'arto, non soltanto la tua parte tendine o muscolare, scalda la tua testa, scalda la confidenza. Tu immaginati che prima di un concerto, anche chi suona la chitarra da tanti anni, un altro strumento da tanti anni, si scalda. Ma cosa scalda? Scalda il rapporto con lo strumento, ti prepari alla performance. Se siamo all'inizio non pensiamo ancora alla performance. In quel caso la nostra performance è lo studio, è lo studio stesso. Quindi scaldi perché entri in simbiosi col tuo strumento, prendi le misure e lo scaldi perché lo strumento, la chitarra, si scalda. Se hai una chitarra acustica di buona qualità, costruita con resine naturali eccetera, quando tu la suoni dopo un po' la chitarra profuma. Io annuso tanto, a me piace annusare le chitarre, soprattutto quelle acustiche, una chitarra che ho del 53, una Martin, io la suono dopo 20 minuti che suoni, soprattutto se la temperatura ambientale è sopra i 20 gradi, quindi soprattutto d'estate, ma anche in inverno quando magari hai 20-21 gradi in casa, suoni il calore del tuo corpo, la scalda inizia a profumare, profume di resina, di colle naturali, delle vernici naturali. Ecco, abbiamo bisogno di scaldarci, di avvicinarci, di entrare in simbiosi col nostro strumento e poi, forti di questo calore, approcciare alle parti che ci raffreddano, nel senso che sono difficili e quindi tutto questo calore ci serve per elaborare le difficoltà che incontreremo. Ma questo studio seriale, parallelo, cercare sempre qualcosa che sia stimolante e mai frustrante. Quando una cosa ti sembra troppo difficile non ti viene, non insistere troppo su quello, fai qualcos'altro. Vai nel corso, suoniamo insieme e suonati una canzone che ti piace. Non c'è bisogno che tutti i giorni cresci, ok? Nella musica non c'è bisogno ogni giorno di fare una cosa, quando si impara, ogni giorno una cosa nuova. Puoi anche fare cose che già ti venivano bene. Suona, muovi le dita, divertiti. Tutto questo divertimento, questo suonare, comunque porta al bene del musicista. Non per forza devi crescere nella difficoltà. Potresti semplicemente fare una cosa che già sapevi fare, ma starai attento di eseguirla meglio, con più convinzione, con meno fatica, con meno necessità di risorse tue da dedicare a quel brano. Quindi questo è l'importante. Studiare non significa per forza mettere sempre nuova carne sul fuoco, ok? Quindi seguimi ai programmi che sono sempre strutturati con, spero, con intelligenza, ma sicuramente con amore, con scrupolo. Impiego più tempo a fare i progetti, programmi didattici che a girare poi i video, perché so esattamente quello che devo fare. So che se devo mettere dentro una difficoltà, e qui entriamo in un'altra parte di questo video, se devo mettere dentro una difficoltà per il mio studente, la difficoltà nuova la inserisco in un contesto in cui tutte le altre cose sono conosciute. E ti faccio un esempio. Se hai imparato a fare tutte le pennate in giù, siamo veramente gli inizi, mettiamo che hai imparato a fare accompagnare tutte con le pennate in giù e soltanto una volta la pennata in su, tipo cia 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 cia. Nel momento in cui ti insegno un nuovo accordo, non ti insegno un nuovo accordo e cia 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 cia. No! Ti insegno un nuovo accordo su una ritmica che già tu conosci. Il tuo cervello deve pensare alla mano sinistra e non dovrai lavorare sulla mano destra. Se devo insegnarti una ritmica tipo cia 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 che è nuova, te la farò fare non su un accordo nuovo, su un accordo che già conosci. L'abbinamento tra due accordi avverrà tra due accordi che hai già visto in precedenza, che trovano nell'essere concatenati la novità. Sappi che tutte queste cose io le osservo, continuo a studiare come insegnare e quindi cerco di trovare quelle che si chiamano porte di acquisizione, che ciascuno di noi ha, in modo da comunicare verso di te al meglio. Come potrai vedere il web è pieno di tutorial di persone che insegnano, fanno il mio lavoro. Io non uso gobbi, io non uso niente di scritto. Tutto ciò che io di cui ti parlo, magari in modo anche prolisso, mi devi scusare, mi piace chiacchierare, mi piace forse ascoltarmi, elego che fa questo. Però io ce l'ho dentro perché da anni lavoro sull'insegnamento e sul trasferire ciò che ho pensato essere giusto per il mio studente. Quindi non temere che sei nel posto giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.